John Borno ragazzi, John Borno, John Borno e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti. Allora oggi ci sono due argomenti da trattare che sono molto caldi e quindi è importante parlarne. Però prima di cominciare, come sempre, se non l'avete già fatto, vi invito a scaricare la mia app ufficiale di numero 10. Il calcio mercato è sul numero 10, ma non solo. I migliori esperti di mercato insieme in un'unica app con notizie in descrizione di live verificate. Le migliori redazioni d'Italia a tua disposizione e poi partite, video, influencer, eventi, tutto calcio mercato è sul numero 10. Quindi mi raccomando scaricatela la nostra app, la mia, la nostra app qui sotto in descrizione. Detto questo torniamo a noi e torniamo a parlare di due situazioni che stanno dividendo e di cui bisogna necessariamente parlare. La prima è legata ad una cosa che secondo me avverrà. La seconda è una smentita che devo darvi perché mi sono informato e perché ho intenzione di fare giornalismo vero e non cagate. Quindi visto che quest'oggi mi sono trovato il mio Instagram intasato di due notizie, vi dico quello che penso su una e quello che penso su un'altra. La prima notizia è correlata a Delict. Infatti ragazzi, sì, Delict lascerà la Juventus. Ora, bisogna capire dove andrà, bisogna capire con quale accordo, bisogna capire chi si accollerà una clausola così alta, bisognerà capire parecchie cose. Però quello che sappiamo è che Delict lascerà la Juventus. A più riprese abbiamo parlato del fatto che Delict volesse andare via, che Delict volesse lasciare la Juventus. Ne avevamo parlato sei mesi fa. Vi ricorderete come c'era addirittura la paura che potesse chiedere la cessione direttamente a gennaio, cosa che la Juventus non avrebbe mai concesso. E quindi di base si partiva da questo presupposto. Cioè l'idea che Delict a giugno avrebbe chiesto la cessione. Poi che cosa è successo? È successo che a gennaio è arrivato Vlaovic. Adesso già hanno preso Di Maria e Pogba e quindi si pensava che Delict potesse rimanere davanti ad un solito progetto nonostante le dichiarazioni fatte in estate in cui diceva chiaramente che un quarto posto, due quarti posti, quel che era, non erano abbastanza per il progetto che lui aveva in mente. E anche lì era partita una sorta di campanella d'allarme che c'è un campanello d'allarme che ci poteva anche stare però penso che adesso siamo arrivati praticamente ragazzi ai titoli di coda perché arriva bene che appunto è il CEO della Juventus, il CEO della Juventus ha rilasciato una lunga intervista, parla chiaro e dice una frase che è molto chiara. Dice è impossibile trattenere chi se ne vuole andare ma dal tavolo della trattativa bisogna alzarsi soddisfatti in tre. Quindi quello che dice lui chiaramente è se Delict vuole andare via e fa riferimento al fatto che Delict voglia andare via allora non creiamo aspettative per nulla perché Delict andrà via. Cioè oggi nel 2022 è impossibile e sottolineo impossibile riuscire a convincere un calciatore a rimanere obbligandolo. Se un giocatore vuole lasciare lascia e Delict ha già dato tanti segnali del fatto che voglia lasciare. Non ha mai nascosto il fatto che molto presto cercherà altre sistemazioni e sul giocatore ci stanno tutti. Cioè il Chelsea che rega problemi economici non ne ha quindi andrà a spendere i soldi non dico magari 120 milioni che la Juventus chiede però una cifra molto vicina alla tripla quindi 95, 96, 97, 98 che comunque sarebbe una grossa plus valenza per la Juventus che nonostante lo ha pagato abbastanza ha comunque ammortizzato il prezzo durante gli anni ecco potrebbe convincere i bianconeri a cederlo soprattutto se spinti dalla voglia di Delict di andare via. Tenere un difensore che non vuole rimanere non è un'arma controproducente è un'arma stupida è una è una decisione stupida se il calciatore vuole andare via tu devi trovare il modo migliore per mandarlo via. Qual è il problema? Il problema anzi i problemi sono che uno come dice arriva bene ci si alza dal tavolo soddisfatti in tre l'altra squadra che non vuole spendere più di quello che dovrebbe spendere. Il giocatore che vuole appunto che le sue richieste vengano soddisfatte e appunto noi ridici arriva bene cioè in quel caso la Juventus voi nel caso in cui parlassi io che sono romanista. Sì sono d'accordo sono d'accordissimo e bisogna capire chi sarà disposto ad offrire una cifra almeno vicina a quella che arriva bene chiede. Si è parlato di tante squadre si è parlato ve l'ho detto di Chelsea che ha già perso Christian Senna e Rudiger si è parlato di Manchester City si è parlato di Manchester United lì dove c'è Tenag. Però lasciatemi dire che se va all'United fa una cazzata è vero che c'è Tenag però l'unica cosa che mi viene in mente da pensare è che va dal Chelsea perché se vai da Tenag ragazzi all'United vai a fare l'Europa League. Cioè capisco che magari il progetto messo in piedi può essere anche interessante perché l'United con Tenag ha sicuramente una prospettiva interessante però anche la Juventus ha una prospettiva interessante essendo il calcio ciclico e che la Juventus ogni due anni che poi non vince torna a vincere puntualmente. Quindi non penso ci siano sti grandi problemi almeno sulla carta per i bianconeri nel tornare a vincere. L'unica cosa che voglio sottolineare è che questo è di interesse secondo me anche per gli interisti per i milanisti per i napoletani è che la Juventus si è sicuramente rinforzata lì dove aveva bisogno perché doveva prendere un nome a centrocampo e l'ha preso con Pogba doveva prendere un nome a gennaio già ma già dall'anno scorso con la Dio di Ronald in attacco e l'ha preso con Blaovic doveva prendere un nome forte in attacco perché perde di base. E l'ha preso con Di Maria e adesso arriviamo anche a Di Bala però 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 dietro dove ha sempre costruito le proprie fortune li ha persi tutti ragazzi li ha persi tutti. Ricorderete che una volta c'era la BBC non c'è più perché Chiellini è andato a giocare in America perché vabbè Barzaglio ormai si è ritirato da qualche anno. Bonucci ha iniziato ad averci una certa e non puoi più pensare di puntare solamente su Bonucci anche perché l'abbiamo visto alterna delle buone prestazioni a delle altre mediocre. Hai perso Romero per una cifra importante perché poi la Juventus lo cedette per una cifra importante ma oggi questo Romero farebbe comodissimo. Oggi probabilmente anche De Miral, Merit De Miral farebbe comodissimo ma l'hai ceduta all'Atalanta una settimana fa e adesso rischi di perdere anche De Ligt. E probabilmente succederà quindi il prossimo anno a meno che la Juventus non vada a fare investimenti proprio pesanti cosa che potrebbe anche fare con i quasi 100 milioni secondo me perché più di 100 secondo me non arriveranno però vedremo magari arrivano. Con i 100 milioni di De Ligt potrebbe anche fargli gli investimenti cioè non mi sorprenderei se andasse a superare l'Inter nella trattativa screener e prendessi sia Milenkovic che Bremer facendo quello che stava facendo l'Inter. Oppure se andasse a prendere Koulibaly e Bremer ecco in quel caso alzo le mani dico beh ci avevi ragione tu però comunque ad oggi rischi veramente di vederti smembrata la squadra perché non hai più Romero e per me è un peso perché non hai più Chiellini e come leader ci perdi tanto perché non hai più De Ligt perché non hai più De Miral. Cioè una Juventus che potenzialmente dietro poteva essere fortissima c'è Gatti indubbiamente però Gatti lo promuovi titolare ovviamente io di tanto in tanto lo metterei però lo promuovi titolare se la tua intenzione cioè quella di rifondare la Juventus se la tua intenzione è quella di vincere lo Scudette ed è questo quello che hai dimostrato prendendo Di Mariano nonostante facesse le bizze per venire un anno solo e prendendo Paul Pogba allora tu vuoi vincere quest'anno allora tu vuoi tornare a vincere cioè tu non hai voglia di perdere tempo. E quindi questa cosa io la sottolineo e ci penso l'altra notizia quella relativa a Dybala che è rimbalzata oggi e me l'hanno scritta in tantissimi Dybala che vuole e sta facendo tutto per rimanere alla Juventus vi dico subito una fake news ma è una fake allora a me risulta dopo essermi informato che sia una fake news vi spiego anche ciò che è successo almeno da quello che so Dybala cambia procuratore Antun non sarà più il procuratore di Dybala io sapevo che Dybala Dybala avrebbe firmato con l'Inter e forse anche per questo che Dybala cambia procuratore perché Antun dava per fatto il trasferimento all'Inter quindi probabilmente è saltato qualcosa che noi non sappiamo e che Dybala non si spiega. Il fatto che Dybala voglia tornare alla Juve è una cazzata cioè Dybala non ha mai voluto lasciare la Juventus ma la Juventus non ha mai e sottolineo mai offerto un contratto a Dybala. Quindi non c'era proprio l'intenzione di andare avanti da parte della Juventus e visto che i bianconeri avessero fatto fatica a chiudere Di Maria magari avrebbero potuto pure farci un pensierino ma invece hanno preso Dybala? Dybala non è nei piani cioè questa è una ipotesi proprio tirata in piedi per nessuna ragione già smentita tra le altre cose con la Juventus che ha già salutato Dybala perché la Juventus ha già salutato Dybala Buenasuerte gli ha scritto salutandoli e facendogli in bocca al lupo Dybala ha salutato la Juventus ha scritto meno un giorno alla fine del contratto si sono salutati non c'è niente cioè non esiste nulla non c'è stata almeno da quello che so io poi non lo so magari si stravolge tutto ma da quello che so io non c'è stata nemmeno un minimo pensiero cioè è una news campata in aria che non ha fondamenta cioè non ha nessun tipo di fondamenta questo è quello che so io se vogliamo fare del giornalismo vero poi che magari mi siano arrivate notizie che non hanno riscontro allora alzo le mani però oggi so questo è una notizia non fondata vi dico chiaramente che ad oggi nonostante era fatta con l'Inter non si sa perché si è saltato d'accordo forse proprio perché l'Inter non ha voluto però questo porta anche da quello che vediamo Dybala a cambiare procuratore e a salutare Antun perché questo sta succedendo e quindi è un terremoto sotto quel punto di vista però Dybala non torna alla Juventus non sta facendoli tutto per rimanere alla Juventus lui sarebbe rimasto alla Juventus non sarebbe andato via la Juventus non l'ha voluto rinnovare men che meno lo vuole fare adesso perché ha preso delle scelte ha fatto delle decisioni e non tornerà sui suoi passi e questa è la verità poi vedremo quello che succederà fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto iscrivetevi al canale se non l'avete fatto io vi ringrazio per aver visto questo video tantissimi piaci e buona ciao all'allene come sempre ci vediamo ad un prossimo video